Lo so che sei là. Quelli della scientifica sono certi che Sara si sia suicidata la notte scorsa. Mi hanno detto che soffriva di una malattia degenerativa. Una perdita progressiva della vista. Come mia moglie. Forse non era sola. Forse c'era qualcuno con lei. Mia sorella è venuta qui con un uomo? Un fantasma. Un'assenza. Lo sai che c'è qualcuno che osserva ogni nostra mossa? Giulia. Maledizione. Chi è? Ghi chai. Sì, sì. Sì, sì.